Aversa, città d'arte, città degli studi grazie alla presenza di due facoltà universitarie e dal 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, città dei miracoli. Perché proprio in occasione della festa della Santa che ridona la vista è stato realizzato un percorso tattile plantare dedicato ai non vedenti. Questo percorso che comincia qualche metro dopo l'ingresso della chiesa dell'Annunziato e consente ai non vedenti, passeggiando su queste particolari mattonelle dotate di rilievi che possono essere percepiti dal piede del non vedente, di camminare senza alcun aiuto. Bene? Perché ci sono dei miracoli? Perché arrivato a questo punto in cui il percorso termina e a questa di botto la vista e può continuare a percorrere il nostro attivo.